Filippo Turetta, l'ex fidanzato di Giulia Cecchettin, è tornato in Italia e si trova in carcere a Montorio, in provincia di Verona. L'uomo è accusato di aver ucciso la ragazza il 12 novembre scorso, dopo un litigio. In questi primi giorni di carcere, Turetta sta cercando di ambientarsi alla sua nuova condizione. Chiede libri da leggere per occupare il tempo, parla con gli agenti della penitenziaria per saperne di più sulla sua situazione e si confronta con il compagno di Cella. Secondo quanto riferito da chi lo ha incontrato, Turetta sembra stare bene fisicamente, ma è ovviamente sotto shock per quanto accaduto. Prende ansiolitici per dormire e si interroga sul perché di tanta violenza. Oggi vedrà per la seconda volta il suo avvocato, Giovanni Caruso, che avrà accesso agli atti dell'inchiesta. Il 22enne potrà decidere di rispondere alle domande del giudice, di rilasciare dichiarazioni spontanee o di restare in silenzio. Gli inquirenti, guidati dal procuratore Bruno Chierchi, sono convinti che Turetta abbia pianificato l'omicidio. A sostegno di questa tesi, c'è l'acquisto online del nastro adesivo usato per imbavagliare Giulia e l'individuazione di un sopralluogo nella zona industriale di Fosso, dove la ragazza è stata uccisa. L'autopsia di venerdì chiarirà anche la successione dei colpi inferti alla vittima. In caso di aggravante di crudeltà, Turetta potrebbe essere condannato all'ergastolo. La vicenda di Filippo Turetta e Giulia Cecchettin è un dramma che ha sconvolto due famiglie. La sorella della vittima, Elena, ha chiesto che Turetta collabori con le indagini per chiarire i motivi dell'omicidio. «Spero che voglia dirci perché ha fatto una cosa così terribile», ha detto. «Non so se riuscirò mai a perdonarlo, ma almeno vorrei capire». Il dolore per la perdita di Giulia è immenso. La ragazza aveva solo 21 anni e aveva tutta la vita davanti a sé. La sua morte è un'ingiustizia che non deve essere dimenticata. Lascia un like, iscriviti al canale e ricordati di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornato.